Il momento è importante, che succede ora? Intanto volevo ancora fare un applauso, bravi tutti i nostri ragazzi! Poi ci sarà una seconda parte sempre dedicata al nostro talent, ma un ringraziamento particolare va a Marco Petrozzi, che per tutta l'estate ha girato l'Italia e lungo e largo per scovare i giovani talenti. Bravo Marco!